Bentornati a Pillole Astronomiche. In un video precedente abbiamo visto perché vediamo sempre la stessa faccia della Luna. Potremmo pensare quindi di osservare la metà esatta del nostro satellite, ma in realtà vediamo qualcosa in più, cioè il 59% della sua superficie. A causa del modo in cui la Luna si muove attorno alla Terra, si verificano due effetti che si chiamano librazioni in latitudine e in longitudine. Il primo deriva dal fatto che l'asse di rotazione della Luna non è perfettamente dritto rispetto alla Terra, ma leggermente inclinato. Quindi quando si trova qui riusciamo a vedere qualcosa in più del polo nord, mentre quando è dalla parte opposta vediamo una porzione superiore del polo sud. Grazie alla librazione in latitudine la Luna ci mostra ciclicamente qualcosa in più dei suoi poli, prima l'uno e poi l'altro. Per capire la librazione in longitudine dobbiamo ricordarci il motivo perché riusciamo a vedere sempre la stessa faccia della Luna. Perché il tempo che impiega a fare una rotazione su se stessa è uguale a quello che impiega a fare una rivoluzione attorno alla Terra. Questi due movimenti sono quindi perfettamente sincronizzati, tranne in due momenti. L'orbita della Luna non è perfettamente tonda, ma ellittica, cioè un po' schiacciata. Di conseguenza c'è un momento dove la Luna è un po' più vicina o un po' più lontana dalla Terra. Quando la Luna si trova più vicina, la sua velocità di rivoluzione è un po' maggiore rispetto alla media. Di conseguenza supera la velocità di rotazione, che si trova quindi un po' in ritardo rispetto al solito, permettendoci di vedere per un po' una piccola porzione laterale del nostro satellite. All'opposto, quando si trova più lontana alla Terra, la velocità di rivoluzione diminuisce. Quindi la velocità di rotazione appare in anticipo, mostrando quindi un'altra parte nascosta della Luna. Sul sito della NASA è possibile scaricare liberamente un video che mostra questo effetto, cioè la periodica visibilità di alcune porzioni della superficie della Luna. A velocità normale non ce ne accorgiamo, ma a velocità aumentata sembra quasi dondolarci di fronte. Ciò che riusciamo a vedere sempre è quindi solo il 41% del nostro satellite, mentre il restante 18% ci viene mostrato solo ciclicamente.